Come potete bene dire io sul palco non sono da solo, ma c'è una parte di questa grande famiglia e se voi me lo concedete io me li vado a presentare. Noi sul palco amiamo essere sostenuti da una forza ritmica della quale io vado personalmente molto orgoglioso e sto parlando signori e signore della batteria di Luciano Balloni! Luciano, Luciano! Luciano, Luciano! Luciano, Luciano, Luciano! Ma quando si parla di batteria inevitabilmente bisogna parlare del basso. E quindi, caro Luciano, abbiamo tra l'altro, abbiamo tra i più bravi bassisti d'Italia, è questo signore, Lorenzo Poli! Lorenzo! 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 Sono sempre, almeno, spontaneo, stentito, ho avuto un po' di buio quando mi sono fatti una storia, ma una band che si rispetta, il signor Mieri, può essere fatta solo io, in bassa batteria, e se no, c'è tutta sta roba qua, poteva mancare la chitarra di chi come sono? Finta! 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 Ora, diciamoci la verità, che è vecchio e non viviamo tutti, no? Vero? Finta! No! Oh no! Ma per me scusate, ha una chitarra? Stiamo un piede a leggerare? No! Mettiamone due! No? Però, lui, ha voluto complicarsi la vita, Lui l'ha presa tutta sul filosofico, sull'elettronico E qui sembra di essere una star trek Tagliati, Tetris, c'è tutto Quindi se vogliamo passare a un momento in cui uno fa il partner Quell'altro è un Tetris Quell'altro si finisce l'orecchio Fantastico Signori, alla chitarra del tastiere Emiliano Fantuzzi Emiliano Fantuzzi Emiliano Fantuzzi Questa è la grande famiglia